Ehi, Chase! Come farai a battermi nella grande gara se non ci riesci neanche nella gara di prova del Mega Garage? Talento, Elliot! Puro talento! Andiamo, Chase! Ehi, ehi! Vi do il benvenuto nel mio canale, cari G-Piloti! Sono Maria G e vi parlo dalla gara più grande di sempre! Questa gara è così grande che ci vorranno ben tre giorni prima che finisca! A Hot Wheels City si prospettano tre giornate di vero spasso! Riva alta! Il Mega Loop! Il Salto Impossibile! E il Reddilineo, in cui si finisce in uno scontro tra pilota contro pilota e auto contro auto! E qual è il premio per il pilota che verrà incoronato il più veloce del mondo? Beh, lascerò che il sindaco Chen di Hot Wheels City, che è davvero fantastica, ve lo dica di persona! Ti ringrazio, Maria! A parte il diritto di vantarsi, il premio è questo! Vi presento l'unica e sola chiave delle meraviglie di Hot Wheels City, che permette di sbloccare tutte le meravigliose potenzialità della nostra città! Avete sentito? Sarò io a vincere quella chiave! Vincere? No, ma te la farò tenere in mano dopo la mia vittoria! Non so di cosa stai parlando, Chase! Potranno vincere o i miei nettori di carburante a scoppio, oppure il modo di strecciare di Sofia! Esatto! Sognate pure, ragazze! Ma la chiave sarà mia! Ho già comprato un bel portachiavi, guardate qui! E come riuscirai a battermi, Elliot? Hai sostituito il tuo motore con il Tetra Flame? Nessuno potrebbe gestire quella potenza! Tocca a noi! Guardate che potenza ha quel motore in prima fila! Siamo pronti per la gara più grande di sempre! Fra tre giorni scopriremo che è il pilota più veloce del mondo! Ma per i primi cinque secondi, sono tutti vincitori! Sì! Mi serve una scarica... di velocità! È il momento di darci dentro! Sì! Sì! liscio come l'alio non tutte le ciambelle escono con il buco quindi stai attento amico, ma che cosa significa? non lo so mi state facendo venire fame ma di vittoria non ci posso credere un gorilla davvero? i gorilla? di nuovo questo gorilla non sembra contento finire per distruggere la città dovremmo interrompere la gara? non lo so ma eccolo lì state attenti sto volando Elliot non posso fermarmi ora andiamo tu in mille ti prego devi farcela devi farcela bella mossa Elliot dobbiamo fermare quel gorilla sì non ci sarà nessuno ad applaudirmi quando vincerò se non lo fermiamo non ci sarà più una città in cui gareggiare sono pronta per la sfida ultime notizie g piloti se pensavate che la gara fosse la notizia più importante sbagliavate la notizia più importante di oggi è un gorilla gigante sta attaccando Hot Wheels City state indietro e guardate il migliore grazie per avermi presentato amico avrò fatto molto prima di voi scusa amica ma come non abbia un scampo ehi gigante blu è peloso è ora di tornare a casa questa volta sarà il cervello a vincere Sofia attivazione dei propulsori di carburante non mi prendi questa volta pesante attento ops scusate questo è il gorilla più forte che abbiamo mai affrontato fuggi piloti la mia nuova amica è il sindaco Chen mi ha appena detto che se la furia del gorilla continuasse potrebbero annullare la gara più grande di sempre attenzione Scusate, ma quello chi è? Non lo so Ma guida in un modo incredibile Wow, è stato fantastico Perché hai una buccia di banana nella tua macchina? Potassio, ti mantiene lucido Dove sta andando? Al traguardo! Non se prima deve vedersela con me Insieme al ringraziamento per aver salvato la città da solo E noi non lo abbiamo aiutato? Il primo posto del primo giorno della gara più grande di sempre va a... Cosmic Coupé e il suo misterioso pilota Nevardo Anche il suo nome è superforte La gara di domani comincerà più tardi per riparare la pista Forza, Hot Wheels City! Questo vi permetterà di avere tempo per imparare a guidare Scusate, non ho potuto resistere Grazie per aver tenuto il gorilla impegnato mentre arrivavo qui Figurati E buona fortuna per domani Buona fortuna Ma se ci ha battuti, ragazzi? Tecnicamente non l'ha affatto È arrivato tardi Ha sconfitto un gorilla gigante E ha vinto mentre io ero distratta E la sua auto è uno sballo! È vero È spuntato fuori dal nulla L'ultimo che arriva al Mega Garage è soltanto una lumaca Qualcuno si è dimenticato come mettere le marce, Spir? Mi permetti di parlarti in questo modo, Sofia? Io lascio che sia la mia auto a parlare Il messaggio è arrivato forte e chiaro Nevard! Non ditemi che sono in ritardo per il tour del Mega Garage Certo che no Ci stavamo solo riscaldando per la gara Aspettate un attimo Chi l'ha invitato? Io, Quinn! Che problema c'è? Non dirmi che sei invidiosa della tecnologia di Nevard Diciamo più confusa Sofia, tu lo sai che io sono un'esperta di tecnologia Ma non avevo mai visto niente del genere Fantastico! È incredibile proprio come avevo sentito E wow! Il Tetra Flame! È uno sballo, vero? Oh sì! A che cosa serve? A garantirci sicurezza e dare energia a tutta Hot Wheels City Queste sono delle grandi prese d'aria personalizzate? Le ho fatte io Come avete fatto a integrare gli impianti? Opera di Quinn È lei il genio della tecnologia Ha persino creato un sistema di sicurezza Io non ci capisco niente Quello è un reattore a fusione portatile? Elliot, la tua password è il tuo nome Ehi, Nevard Sarei felice di aiutarti a controllare i tuoi rapporti di cambio E i computer Grazie, ma... Faccio da solo I fa da sé, fa per tre, vero? Ehi, ehi, G-Piloti! Sono la vostra Maria G E vi parlo dalla nuova fantastica stazione di polizia di Hot Wheels City Con lo sceriffo Tony Ngiongo Sceriffo, che cosa state facendo? Lei e la sua squadra per rendere la città più sicura? Dopo l'attacco del gorilla di ieri Abbiamo messo in sicurezza vari punti della pista La riva alta, i mega loop, il rettilineo E ovviamente tutti alla stazione sono in massima allerta La nostra volante è pronta ad agire E il team di comunicazione è pronto per una chiamata d'emergenza Non so voi, G-Piloti Ma questa ragazza si sente già molto più al sicuro E pronta per godersi il secondo giorno della gara più grande di sempre Qui a Hot Wheels City! Provate a raggiungermi! Raggiungermi! Andiamo! Caprimi le spalle! Passo e chiudo! È il momento di una bella spinta di nitro Bella mossa, Queen Però non sprecarlo tutto in una volta Tranquillo, ne ho ancora molto Ma che cosa ha sotto quel cofano? Oh no! Attenti! Ma cosa? Andiamoci dentro! E lavoreremo insieme stavolta? Non voglio che accada come ieri Accetto la sfida! Ehi, dov'è finito Cosmic Coupé? Ora non abbiamo tempo Andiamo! E-L-L-I-O-T Sono entrato Grazie, Elliot Ora devo entrare nel Tetra Flame Serve una chiave Quale chiave? Ah, quella chiave La chiave delle meraviglie della città Sei mio, brutto scorpione! Tocca a te, Twin Mill Vado io, Chase Ehm, come non detto Non va bene È troppo grande Appunto la mia auto! Beh, è uno scorpione Almeno non è un Parabutus Sono velenoso La smetti con i documentari, Chase? Sono educativi Ehm, forse è meglio continuare dopo Qualcosa ha intrappolato lo sceriffo Avete visto anche voi? È grande Ma molto maldestro E noi siamo piccoli ma veloci Dovremmo essere in grado di intrappolarlo Allora facciamogliela vedere Aspettate Siamo sicuri che non è il Parababa quello che è? Ok, accetto la sfida Mi hai mancato? Ah ah, non mi hai preso Devi andare più veloce, scorpione No Ah 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 Hai perso, bello Fatevi indietro Ci penso io Sei stato incredibile Non proprio L'avete distratto per me? Sì, un bel lavoro di squadra Più o meno Ora, se volete scusarmi Devo proprio scappare Figurati E dove vai? Al traguardo La gara Non ci credo Lo sta facendo di nuovo Non si deve vedersela con la mia Twin Mill Mi dispiace ragazzi La vittoria è mia Scusa Speed Ma vincerò io Ecco che arrivano i migliori G-Pilodi Oh oh Incredibile Twin Mill sta andando su due ruote Questo secondo giorno della gara più grande di sempre è stupefacente Cosmic Coupé Supera Fat Fish e la pasta Ma aspettate Sembra che la pasta ti stia attaccando a Cosmic Oh Ah Adesso sono tutti attaccati Stanno facendo delle acrobazie fantastiche in questo momento Ma chi riuscirà ad arrivare primo? No Vince Cosmic Coupé Guardate per un velo È Cosmic Coupé Il vincitore del secondo giorno della gara Incredibile Incredibile Sofia Speed con la sua la pasta e Tulligan arrivano in entrambi i secondi Meraviglioso Fast Fish e Twin Mill invece arrivano al quarto e al quinto posto Mi piacerebbe vederlo battermi in maniera corretta Ehi Non è colpa di Nevard se le creature giganti hanno attaccato la pista Andiamo Devi ammettere che è un po' strano No Il fatto che io sia arrivato quinto è strano Non preoccuparti c'è sempre domani E questo significa un'altra possibilità di arrivare secondo dopo di me Ehi ehi cipiloti Diamo un'occhiata alla vista dal mio drone del Primo giro dell'ultimo giorno della gara più grande di sempre È Fast Fish a essere in testa Ma guardate Twin Mill non dà un attimo di tregua al suo migliore amico Tulligan e Cosmic Coupé passano in testa Lo aspettate La fantastica Sofia, la maga della velocità, accelera con la sua la pasta e diventa prima Dovrà usare tutta la sua potenza se vuole scuotestare Cosmic Coupé, il vincitore dei primi due giorni Sì Gipiloti, non so se avete visto quell'ombra Ma a me sembrava proprio un... Fammi indovinare Un dragone sputafuoco? Un dragone sputafuoco? Cosa? Io stavo scherzando Oh Qui si mette male? Oh no Attenti Guardate che unghie Si chiamano artigli Tu guardi Troppi documentari Guardate Il mega garage Dobbiamo fermarlo Ma c'è la gara No, si tratta del mega garage Ma io sto vincendo Ci sono delle persone lì Ah ah Avete ragione, accetto la sfida Ma io sto vincendo Sì Sì Oh 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 Attenza Pumbo del freno Aumentare l'aderenza degli pneumatici Scalare e Siamo salvi Woo Ehi Io guido le auto Voglio gli aerei Non preoccuparti Sofia Ti faremo scendere Spero che tu abbia già un piano Chase Ci sto lavorando Almeno non soffro di vertigini Mi sbagliavo Invece sì Dobbiamo farla rallentare Spero che gli abbia fatti gonfiare bene Quegli pneumatici Perché le servirà a fare un bel rimbalzo Hai ragione Davvero Rimbalzo pneumatici Potremmo usarli per attutire la caduta Andiamo Sto precipitando Spero che funzioni Grazie a tutti Ora che c'è? Il dragone sta attaccando la caserma dei pompieri Mi sembra giusto Loro sono quelli che si occupano di combattere il fuoco Forza Andiamo Venga qui Ma dove sono i pompieri? Si stanno occupando di un altro incendio ora Andiamo Andiamo a sconfiggere questo dragone Con cosa? I tubi Esatto So che me l'avete già sentito dire Però... Ci serve una scarica di velocità ragazzi Questo non è il momento in cui Nevard dovrebbe venire a salvarci? Non mi fido di quel ragazzo Neanche io Angel è fantastico Avete visto quanto è forte il suo casco? Sì, ma stavolta tocca a noi Ce la faremo, credeteci Stai fermo adesso Stai attento, sputafuoco Andiamo Un regalo di compleanno sguamoroso Pacchettato per bene Ehi, ma dove sono tutti? La gara E per la tua guida eccezionale Nella più, diciamo, insolita delle circostanze Ti consegno come premio La nostra chiave delle meraviglie di Hot Wheels City La chiave che dà accesso a tutte le grandi potenzialità di Hot Wheels City La chiave che può aprire ogni cosa Grazie mille, sindaco Chen Le assicuro che la userò in maniera molto saccia Eccolo qui Vi è piaciuto il mio dragone? Niente male, vero? Il tuo dragone? Beh sì, tutti i cattivi hanno un dragone Un giovane Draven? Ma com'è possibile? Dici sul serio Nevar Cioè Draven scritto al contrario Pensavo che mi avreste scoperto Tu sei un clone! Io preferisco modello nuovo E con la chiave delle meraviglie e il Tetra Flame Creerò una nuova Hot Wheels City La mia Hot Wheels City Dante Dobbiamo andare Al mega garage Non riesco a credere di non essermene accorto E io non riesco a credere che Nevard ci abbia mentito in quel modo A me stava molto simpatico Perché era quello che voleva lui, Elliot Ed era anche molto bravo a fingere, direi Mi dispiace non averti creduto, Quinn Sì Avremmo dovuto ascoltarti Nessun problema, ragazzi Ci siamo comunque guardati le spalle Ciao Esatto Ora Nevard potrebbe distruggere la città E io gli ho dato la chiave Che cosa facciamo? Facciamo quello che ci viene meglio Guidare Avanti, dobbiamo tornare subito al mega garage Non me lo faccio ripetere due volte Ehi, ehi, G-Piloti Sono Maria G con la G-Gara Se vi siete appena collegati Nevard, il misterioso vincitore della gara più lunga di sempre Ha svelato di essere il super clone super segreto Dell'arci malefico Draven Ed è volato via dal mega garage Su un dragone Dico io, un dragone? Chi lo farebbe? Peccato che sia un cattivo Ma rimangono dei grandi interrogativi Perché Draven ha liberato il suo clone impazzito? Quali sono i suoi piani malefici? E cosa c'entra a mega garage? Continuate a seguirmi, G-Piloti Molto altro in arrivo Scarica di velocità Ho un garage da salvare Spero solo che ci sia un garage da salvare Chissà cosa ci ha fatto Nevardo da quando... Corpione So che non abbiamo vinto la gara più lunga di sempre Ma sono sicuro che batteremo questa cosa Allora facciamolo ancora Serpentina! Benditto, Elliot! È frastornato Punto a quello Attenta, Sofia! Fadun! Ferma, Sofia! Eccolo che arriva! Vai! Vai! Fuoriuso! Woohoo! Quel mostro avrà un mal di testa mostruoso quando si sveglierà Già, meglio non farsi trovare qui Beh, il mega garage è ancora in piedi Sì, ma purtroppo anche loro Sorpresi? Non pensavate davvero di batterli, vero? Vi piace quello che ho fatto qui? Non proprio Perché è illuminato? Hai messo le mani nel mio sistema, Nevard! Direi che l'ho... Migliorato Non hai mai capito la potenza del Tetra Flame? No, sei tu che non capisci la sua potenza E ora ridaccelo da bravo clone cattivo Io... Credo fosse un no Non finisce qui, Nevard E invece sì No invece! Sì, e come? No, è... Sì, invece! Ha 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 ha! No invece! Ci serve un nuovo posto dove riunirci e formulare un piano Sto ancora cercando di capire come si è intrupolato nella nostra vecchia base Il sistema di sicurezza era tutto codificato Non dirmelo Era così complicato che ho dovuto scrivere la password su un biglietto Beh, questo risponde alla mia domanda Ora dove andiamo? Ehi, conosco un posto Seguitemi Non direi che un autolavaggio con enormi getti d'acqua È il posto migliore per apparecchiature elettroniche delicate Ma... Lo farò andare bene Dimmi cosa posso fare per te, Quinn Grazie, Elliot Ecco uno spazzolone No Una stazione di cambio istantaneo del colore Una stazione colore Mostra i colori alternativi che sono nascosti sotto la struttura molecolare della vernice Struttura, molecola, bla 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 Quello che è, è forte È più forte di me So cosa voglio per il mio compleanno Io vorrei che scoprissimo come ha fatto Nevada a potenziare il Tetra Flame con tanta facilità A quanto pare dobbiamo chiarire qualcos'altro prima È l'ultimo avvenimento del tutto bizzarro a Hot Wheels City Riguarda la comparsa improvvisa di un immenso cono gelato nel bel mezzo dell'incrocio tra High e Star Street Mmm, cioccolato L'ultimo Meglio dare un'occhiata Con una scarica di velocità Guarda laggiù Su le ruote Furgoncino dei gelati Un edificio è appena scomparso Dobbiamo andarcene da questa strada Lo sceriffo ha bloccato il passaggio Anche più avanti Un segnale di deviazione Da questa parte Ma cosa... Ok, chi ha mappato questa deviazione? È opera mia, Demo Draven? Sì Ci hai intrappolati qui Incastrarvi? Mi è sembrato l'unico modo per farmi ascoltare da voi Perché dovremmo ascoltarti? Hai fatto tutto questo È tutta colpa tua Io non ho fatto niente Sono solo tornato a Hot Wheels City È il mio clone responsabile E chi l'ha clonato? Non saprei Ecco perché devo parlare con voi Perciò non stai usando il tuo clone per distrarci Mentre metti in atto un piano ancora più terribile Oh, lo vorrei tanto Ma no C'è un solo posto dove possiamo ottenere tutti delle risposte Per questo strano avvenimento Tutti? Vuoi forse dire che dovremmo fare squadra con Draven? È un tipo cattivo Elliot, il nemico del tuo nemico è tuo amico Almeno per un po' Concordo Se arriviamo in pista da sud Non sapranno mai quanti siamo finché non ci troveranno lì Lasciamo un elemento sorpresa Lo adoro Ehi amico, gli stai svelando tutte le tue mosse segrete Ne troveremo delle nuove Facciamolo Prendiamoli! O meglio Questo dovrebbe essere il momento sorpresa Ora doppiamo solo... Ci servono delle auto più grandi? E forse una barca?